Dopo tanti anni Teramo forse ha trovato la sua vera vocazione. Sarà una città universitaria. Dal prossimo anno si apriranno due cantieri importanti, l'ex manicomio che riporterà in centro storico le attività del Dams e la casa dello studente in Viale Crucioli, nella sede dell'ex rettorato. Quest'ultimo progetto rappresenta un grande successo appena ottenuto dall'Azu di Teramo, finanziato con 10 milioni di euro dal MIUR, piazzandosi al 27esimo posto in graduatoria su 80 progetti in Italia. Un progetto finalmente finanziato, un posto incredibile in graduatoria nazionale. Sì, è andato molto bene, siamo soddisfatti, è un bel lavoro, anche perché in tempi brucianti, in tre mesi, siamo riusciti a fare tutta quell'attività prevista per partecipare al bando. Ci siamo piazzati il 27esimo, una graduatoria di 80 ammessi, 90 serano i partecipanti, alcuni hanno ritirato la propria candidatura, altri non sono stati ammessi, e sugli 80 27esimo siamo nella parte alta della graduatoria. Nel giro di due anni i 220 studenti potranno avere a Teramo una moderna residenza universitaria, dove alloggiare e disporre all'interno della struttura di tanti servizi, palestra, ristorante, sale studio e ambulatori. Ci saranno due edifici principali, l'edificio A, che è quello principale, che è fronte strada, che ha un valore anche storico architettonico, sarà riportato all'edificio originario, perché lì poi furono fatti più, quindi sarà fatto un restauro filologico, togliendo le superfetazioni che si sono accumulati negli anni, la sopraelevazione, quei corpi di fabbrica davanti al piano terra, eccetera. E lì ci saranno le strutture generali, quindi ci sarà la palestra, ci sarà la biblioteca, ci sarà un bar, un ristorante, ci sarà un piccolo ambulatorio medico, stiamo facendo l'accordo con l'Alze per questo. Invece la parte dietro ci sarà l'edificio esistente, sarà recuperato per le parti generali, quindi le cucine, quindi gli spazi comuni, eccetera. Invece si sarà costruito un nuovo edificio dietro, tutto in acciaio e vetro, dove ci sarà invece la vera e propria residenza universitaria. Quando si comincia? Speriamo per fine 2020, speriamo di sì, speriamo di farcela. Grazie.